Ciao, sono Antonio Carbone e con questo video voglio mostrarti come produciamo il nostro olio naturale e genuino come una volta. Tutto inizia nell'oliveto, dove selezioniamo le migliori olive della nostra regione, coltivate naturalmente su terreni collinari, per garantire costantemente un olio extravergine di oliva naturale, profumato e delicato. Dopo aver seguito minuziosamente tutta la coltivazione, ci spostiamo nel frantoio di famiglia. Abbiamo adottato il nostro frantoio di tecnologie avanzate, per far sì che l'olio prodotto mantenga intatte tutte le proprietà organolettiche e salutari. La pulizia delle olive avviene attraverso vortici di aria, che ne preservano l'integrità e non fanno attivare i processi fermentativi. Le olive pulite poi vengono frante attraverso un innovativo metodo, concepito per non riscaldarle e non farle entrare in contatto con l'ossigeno. In questo modo l'olio non viene ossidato e mantiene inalterate le sue proprietà uniche. L'estrazione avviene per raffieramento, come si faceva anticamente. L'olio viene separato grazie al diverso peso specifico, senza subire azioni meccaniche. In questo modo manteniamo la sua temperatura sotto i 27 gradi centigradi e garantiamo un olio totalmente integrale. Conserviamo l'olio nel nostro frantoio, in assenza di ossigeno e a temperatura controllata. Lo confezioniamo solo al momento della spedizione, per garantire ogni volta che aprirai la tua bottiglia, l'intenso profumo di fresco delle olive appena spremute. Ci occupiamo personalmente delle vendite, senza intermediari, perché vogliamo essere certi che fino a quando l'olio non arrivi sulla tua tavola sia conservato nel migliore dei modi. Grazie all'olio Fratelli Carbone puoi mettere in tavola il puro extravergine di oliva dal frantoio a casa tua senza intermediari e gustare tutti i giorni nella tua cucina l'intenso profumo di oliva appena pranta, un olio buono fino all'ultima goccia.